Siamo un ragazzo che oggi vuole fare quello che farei tu, cioè salire su un palco. Però scuola, una cosa, adesso ci sono gli stand comedians che su per giù è quello che tu fai da tempo, no? Certo, ho sempre fatto quello. Adesso, perché comunque c'è una grande attenzione negli ultimi 5-6 anni, che cosa è cambiato? Ma è cambiato, cioè io li seguo perché chiaramente, però poi alla fine la cosa si misura sulla capacità di, ci sono delle, cioè il comico non si misura sul tormentone da due minuti, il comico si misura quando va, dove va? Va via? Allora aspettiamo. No, il comico si misura sulla, davanti a un pubblico, quando tu vai in un teatro c'è il pubblico che ti ha scelto, fai un'ora e mezza, un'ora, un'ora e mezza di, e lì capisci qual è la capacità di stare in scena. Comedian, io li vedo, però una cosa che a me dà fastidio è, ma capisco che lo possano fare, è questo uso reiterato un po' del volgare, dell'andare, parlare anche di cose che magari possono anche, non mi piace questo estremizzare proprio la volgarità, che può essere anche interessante, però ci vuole secondo me alla fine un certo gusto, una certa distanza da quello che stai dicendo. E quindi li seguo, seguo, però li valuto in base a quello che mi fa ridere, cioè ci sono alcune cose che mi fanno ridere, altre no, quindi... E diciamo, cosa consiglieresti adesso a uno ragazzo? Consiglierei di leggere, di leggere tanto e di essere molto curiosi, perché leggendo, e poi soprattutto di coltivare quello che uno, io ho coltivato quello che sentivo, cioè non... l'obiettivo non è diventare famoso, l'obiettivo è far ridere, cioè l'obiettivo è salire su un palco anche davanti a 20 persone ed essere capace di farle ridere, quella è la cosa e quando ce la fai è una gran soddisfazione. Certo, è vero che adesso c'è in mente questo programma televisivo che è una scuola per opinionisti? Sì, mi piacerebbe perché ormai, cioè se non sei opinionista non vai da nessuna parte. Cioè, la scuola si chiamerebbe Martiri di Daniele Capezzone, e quindi, no, perché veramente, ormai è diventata una cosa... No, ma perché mi è venuto in mente, perché ci sono gli opinionisti di qualunque tipo di situazione, c'è l'opinionista, c'è il virologo, che chiaramente c'è il comandante, c'è il generale perché è diventato, con la guerra tutti sono diventati geopolitici, però c'è l'opinionista che sa di Temptation Island, come c'è l'opinionista calcistico, come c'è l'opinionista che è esperto... Quindi bisogna dargli un lavoro a tutta questa gente, e poi ci sono delle tecniche da insegnare, perché quando vedete ci sono veramente della gente che magari è ferrata ed è molto brava, che però in televisione non rende perché non ha quei mezzucci che magari ti consentono di togliere la parola all'avversario, di renderlo ridicolo magari, che poi in televisione l'apparenza è quella che vince, anche se tu sei ferrato, però se sei ferrato dottoralmente o anche in un modo anche un po' pedisseco, il confronto lo perdi, lo perdi, e quindi a me interessava forgiare delle nuove leve di opinionisti che cambiassero l'Italia veramente. Senti.